Eh sì, do la buonasera a Pasquale Calabro in collegamento, dirigente degli Stingers, buonasera Pasquale. Buonasera a tutti, buonasera. Aspettiamo Massimo e facciamogli gli auguri innanzitutto per il suo terzo, il lieto arrivo, sua figlia, questa è la notizia più importante del momento, devo dire. Supera anche la vostra richiesta di iscrizione, Pasquale. Assolutamente sì, diciamo come dire, vi vorrebbe da dire Stingers con un fiocco rosa, no? Insomma una bellissima notizia per tutti noi, per Massimo particolarmente, insomma, che arriva la sua, il terzo figlio, femminuccia, oltretutto. Sì, io aspetto Massimo, probabilmente è un po' in ritardo, però parto da te. Il ritardo giustificato. Sì, no, non c'è dubbio, anzi, lo ringraziamo anticipatamente, tu sei papà, io lo so nientro da poco, so cosa vuol dire, so che i tempi cambiano. Pasquale, perché Serie D in Sicilia? Cosa vi ha spinto a questa scelta inedita? Beh, guarda, è una scelta dettata dalla voglia di giocare e dalla voglia di fare esperienza. Tieni presente che noi siamo fermi da marzo dell'anno scorso, l'ultima partita abbiamo giocato a marzo dell'anno scorso, in un campionato che ci aveva preso una piega molto, molto bella, intrigante per noi, interrotto sul più bello dal problema Covid. Sia noi come dirigenza, come squadra, ma anche tutti i nostri ragazzi, il nostro gruppo, come dire, ormai storico, unito, abbiamo tanta voglia di giocare, per cui nel momento in cui si è configurata, si è materializzata l'idea di non poter disputare il campionato in Calabria, ma perché non pensare a quale possono essere le probabili soluzioni e altre soluzioni. E per cui, come dire, ci siamo affacciati nella terra più vicina a noi che è la Sicilia. Devo dire che la risposta da parte del FIP Galattia e FIP Sicilia sono state rapide, sono state sorprendenti per questi aspetti, perché la Sicilia ci ha accolto a braccia aperte. E il nostro presidente Paolo, come dire, ha dato la massima disponibilità per poterci, come dire, agevolare, favorire questa iscrizione al campionato, al campionato siciliano. È un qualcosa di intrigante, perché comunque ci andiamo a confrontare con altri atleti, altre squadre, su un altro territorio, in una regione in cui il basket ha una storia ed un corpo diverso rispetto a quello calabrese, più importanti per certi aspetti, per cui abbiamo solamente da apprendere e fare tesoro di questa nuova esperienza. Io mi confronto spesso con Roberto Quartarone, con Chiara Bordì, che saluto. Roberto è stato l'autore di un libro sul basket siciliano proprio recentemente, lo avremmo ospite quanto prima. E ti devo dire, sì, dal punto di vista del bacino d'utenza, quello che dici ovviamente è inequivocabile, perché la Sicilia ha forse cinque volte o sei volte i numeri della Calabria, tristemente. Dal punto di vista della storia, la Calabria, anche probabilmente grazie alla storia della Viola, ha fatto tanto. Se le andiamo a sommare sarebbe una bellissima gara, anche perché in Sicilia, ad esempio, Priolo ha vinto trofei internazionali, ci sono stati scudetti in ambito femminile, ci sono stati veramente momenti bellissimi del basket italiano. Tornando al discorso Stingers, io so che è un gruppo collaudato, molto, molto passionale, e non avete nessuna voglia di mollarlo, anche perché nella passata stagione e anche in quelle prima ci sono stati dei ragazzi che hanno dimostrato prima di essere delle brave persone e poi dei bravi atleti. Me lo confermi? Bravissimo, esatto, è proprio così. Guarda, forse il nostro patrimonio più grande, come il patrimonio di tutte le squadre, sono gli atleti. Noi abbiamo avuto la fortuna di costruire, trovarci, assemblare, mantenere questo gruppo di ragazzi che sono ragazzi e non lo sono, perché molti hanno famiglia, molti lavorano, sono sposati, fanno chilometri solo per potersi allenare, senza la certezza di poter fare un campionato, perché noi ce la mettiamo tutta, ma il Covid, come dire, ci mette anche la sua incertezza. Per cui, come dire, noi non abbiamo nessuna voglia di andare a sgredolare il gruppo che si è creato, che abbiamo creato. Anzi, come dire, quasi quasi questa esperienza siciliana la facciamo molto ben volentieri, perché sappiamo, siamo ben cosci del patrimonio che abbiamo. Buonasera Massimo, buonasera a tutti, buonasera, ciao, scusate il ritardo, ma sapete che ci stanno un po' di... Come dicevamo con Pasquale, insomma, sei più che giustificato. Grazie, grazie. Ti ringraziamo per essere con noi. Io saluto in frattempo Paolo Polimeni, che saluta il presidente Pasquale Calabrò. Massimo, è un momento importante per la storia, per la giovane storia degli stingersi, dico bene? Sì, è importante, è importante perché, insomma, con Pasquale abbiamo riflettuto, se non vado errato, circa 30 minuti prima di prendere una decisione del genere. Abbiamo avuto, insomma, l'opportunità, una volta sentito il presidente Surace, di, insomma, con il suo benestare, di chiedere alla FIP Sicilia, appunto, di poter sbarcare al di là dello stretto. E, attendiamo adesso notizie, c'è stata la mail ufficiale, vediamo un po' come organizzano, come organizzano, appunto, questo campionato in Sicilia. Stiamo attendendo, appunto, delle notizie. C'è tantissima curiosità, anche perché sarete l'unica formazione calabrese nel girone siciliano. È vero che le partite si giocheranno in terra di Sicilia? Questa, sì, si giocheranno la federazione in Sicilia, ci ha messo a disposizione, scelta, ecco, più che a disposizione, scelta di tre strutture. Una è stata data in affidamento barra manutenzione al Castanea. Vediamo un po', in settimana Pasquale, più il capitano, più qualcun altro della società, farà un primo soparloco in terra siciliana, per comprendere quale sarà la location più opportuna per noi, in considerazione che ci saranno poi i vari traghettamenti, spostamenti e quant'altro. Sicuramente è una bellissima esperienza. Questo l'abbiamo riflettuto con Pasquale, anche senza tralasciare dei consigli del coach di Carlo, perché, soprattutto per il gruppo, insomma, un gruppo di giocatori storico che sicuramente ringraziamo per quello che hanno fatto l'anno scorso e per quello che daranno anche quest'anno in terra siciliana, no? In terra siciliana in tutto e per tutto probabilmente, poi chiaramente questo lo vedremo. Io colgo il tuo assist per fare i complimenti al Castanea, tra parentesi, perché ha vinto la sua prima storica partita in Serie C Sicilia, e a Cosimo Commis, un ragazzo straordinario di Siderno, che gioca da questa stagione proprio al Castanea, e queste sono le storie che ci piacciono. Il Castanea, devo dire, è una delle società che ha maggior voglia di emergere dall'altra parte dello stretto. Per quanto riguarda invece l'obiettivo nel medio-lungo periodo degli Stingers, Pasquale, vi siete dati una timeline, una missione? Qual è il vostro obiettivo? Beh, guarda, il nostro obiettivo è fare sport, fare basket. Fare basket non specifico, ma fare sport in generale. Abbiamo un paio di progetti che stanno rallentando causa Covid, ma speriamo entro il 2021 di poterli presentare a tutti. E poi, insomma, è di continuare a far bene nel mondo del basket. C'era l'idea delle giovanili, c'era l'idea del mini-basket, c'è l'idea di una struttura. Insomma, abbiamo tantissime idee e tantissimi progetti. Dobbiamo anche fare i conti con quella che è la realtà e per cui rallentare per gli aspetti dovuti. Se ti posso dare un consiglio di mercato per un giocatore giovane, abbiamo un classe 87, ha giocato sia nell'Audax che nella scuola di basket viola, fratello d'arte, che Massimo, suo fratello, giocava con me dal 1985 alla viola. Saluto Maurizio Comiche. Non si capisce. Per voi non è un giocatore qualsiasi, insomma. No, assolutamente. Vai Massimo, racconta. Il nostro capitano, alla quale deleghiamo tantissime cose. Sì, è di grande supporto. È di grande supporto, Mauro. Loro in blocco hanno fatto una scelta l'anno scorso, provenienti dalla nuova Jolly. Noi ringraziamo, tra gli altri, che ci hanno dato supporto anche Romana per quest'anno, visto che abbiamo fatto una bella riunione anche con gli under, anche con i genitori, mettendo anche a nudo quello che era la programmazione, perché era pronta. E si stanno continuando ad allenare anche gli under 20, quindi Romana ha sposato anche appieno il nostro progetto. Ritornando sul capitano, che è un po' la chioccia, lo direi che veramente ho scoperto, ecco, in blocco delle persone squisite. Abbiamo, intanto con Pasquale, ormai abbiamo, diciamo, andiamo avanti su questa strada da sei anni, quindi ci troviamo d'accordo. E devo dire che c'è stato un feeling valoriale con i giocatori, quindi con Peppe Panuccio, con Triolo, con John McCallon, ma anche con Casciano, Millie, devo dire, veramente, veramente un roster raffiatato. Bravissime, brevissime persone fuori dal campo e lottatori nel perimetro. Questo è una cosa importante. Massimo, hai dimenticato il nostro Pluto, il nostro bombarone. Ah, sì, vabbè, scusatemi, scusatemi, dico ce ne sono, come Ciccio Sant'Ambrogio, come i nuovi arrivati, Piero, è normale che comprendete il momento, dico, di oggi sono in giro come una trottola. E quindi, dico, questo è importante, importante perché andando d'accordo in primis, dico, con Pasquale, perché è proprio questo l'aspetto valoriale dello sport e della passione. E trovando anche un gruppo che sposa gli stessi valori, è una bella cosa per poi materializzare in campo tutto quello che è un percorso abbastanza articolato, come ha detto Pasquale, potrebbero esserci delle novità, qualcuna c'è già in piedi, dico, va bene. Sì, sicuramente, io ovviamente il mio nel basket mercato lo farò e racconterò un po' di retroscena, però volevo sapere, ma Massimo, quando avete comunicato al coach, a Carlo Sant'Ambrogio, sai che c'è, ricominciamo, andiamo in Sicilia, lui cosa ha detto? Beh, all'inizio, devo dire, è rimasto un po' così sbalordito, perché, diciamo, non ci credeva neanche Carlo, dico, appena chiuso la telefonata, dico, con la FIP Sicilia, dice, mandiamo la richiesta, sentendo FIP Calabria, ed è tutto ok, no, ma finita la sede, dico, non ti preoccupare Carlo, abbiamo già organizzato tutto, ci sei, vabbò, io ci so, ok, benissimo, ecco, queste sono le persone, anche perché Carlo è una figura storica, anche del basket calabrese, molto, molto attento anche alla crescita dei ragazzi, e sicuramente una persona molto affabile, anche lui, da settembre è entrato in sintonia, diciamo, con la società, ecco, io saluto tutti i ragazzi, dico, è stato molto, molto deciso, una risposta molto secca e veloce, quindi anche lui ci crede, io saluto tutti i ragazzi degli Stingers, che ci stanno seguendo, Tante Potriolo, Francesco Casciano, poi c'è Edwin, che vorrebbe strappare una maglia, da quello che è vero, famiglia, non ci dimentichiamo di salutare anche Ciccio Sant'Ambrogio, dico, no, che io ci stavo arrivando, facciamo un grande boccalupo a Ciccio, per questa nuova esperienza lavorativa, anche lui, barca per andare su un'isola, però è un'isola un po' diversa dalla Sicilia, un po' più lontana, un po' più lontana, un boccalupo a lui, so che è già sul mercato, per la Serie A Maltese, ma se ne parlerà nella prossima stagione, questo è un piccolo retroscena che vi do, vi do anche un altro retroscena, Pasquale lo sa, perché lui, il protagonista di questi messaggi, io e Pasquale, ormai da un bel po' di tempo, abbiamo un bel rapporto di Whatsapp, praticamente, ormai qualche settimana fa, io gli scrivo, vedi che sto mettendo rumors, lui, su cosa? Mi è arrivata voce che avete chiesto la partecipazione al campionato delle isole, credo sia in Corsica, o Corsica o Sardegna, non ho capito bene. Questo è il mio messaggio, però insomma, questo fa parte del gioco. La realtà è in Malta, vedi, diciamo la verità, ti diamo questa notizia in anteprima, abbiamo mandato Ciccio a Malta perché siamo interessati a quel campionato. Forse tu non lo ricordi, forse Massimo sì, però tantissimi anni fa, la Zurrina e non solo, nella vecchia C nazionale, giocavano un girone con la Campania, la Basilicata, la Sicilia, dove è stata introdotta anche Malta, che pagava le ospitate a tutte le squadre che andavano lì a giocare in trasferta. Aspetta, Era anche la Nazarese, se non ricordo mai. Se non vado errato, anche nel lontano, cerco di dire una data esatta, però ritengo nel 1989, la Viola anche faceva dei camp, dove portava i ragazzi lì a Malta, l'ha fatto, se non sbaglio, per due o tre anni di seguito. Dovremmo parlare con Letano Jebbe, anche perché dell'89, ricordo soltanto lo scudetto dell'Inter, Ramondi, poi il resto purtroppo l'ho rimosso. È sempre una data importabile, sempre sport. Sì, sì, assolutamente. Anche se, insomma, nell'89, parlando di Viola Reggio Calabria, si registravano picchi pazzeschi, il Contonino Zotti, la guida, probabilmente dietro di me c'è anche quella formazione lì, era una bella canotta bianca, c'era Dan Caldu e le Jones, se non ricordo male. Sono ricordi bellissimi, portiamo tutti dentro di noi e con il cuore, ovviamente. Basket Mercato, possiamo fare una piccola lista di confermati e se c'è qualche nuvento, Pasquale? Beh, guarda, i confermati sono i ragazzi che abbiamo in questo momento, sono tutti confermati, anche perché, devo dirti, Massimo prima raccontava l'ok di Carlo, diciamo, senza di tubazze, ma io ti posso raccontare l'ok dei ragazzi all'esperienza siciliana quando gliel'abbiamo comunicato, loro sono stati entusiasti, quindi è stato un momento di conferma di quello che dice Massimo del gruppo che abbiamo, ma per noi di stimolo, perché significa che siamo sulla strada giusta delle scelte che facciamo, non è semplice sentirsi dire sai che c'è, quest'anno non facciamo il campionato in Calabria, ce l'andiamo in Sicilia, non tutti avrebbero detto immediatamente sì, invece devo dirti che tutti hanno detto sì, anche quelli che hanno famiglia, lavoro e quant'altro, per cui devo dirti, ottimo gruppo, tutti confermati, non c'è dubbio su questo. prima di parlare del basket mercato, io mi collego sempre al nostro incontro di qualche ora fa al Botteghelle, Massimo, il dottore Panuccio che viene a Pozza da Calanzaro per allenarsi, è probabilmente la sintesi della voglia di scendere in campo. Questo mi ricordo a quello che dicevo prima, persone che giocano per lo sport, per la passione, hanno fiducia nella società, perché quello che abbiamo detto e abbiamo sempre programmato con Pasquale, i programmi che abbiamo messo in piedi si sono sempre materializzati, quindi questo è anche sintomo che nel momento in cui andiamo a dire una cosa, ma anche allo staff, ai giocatori, anche gli under, e dico della Nova Gioli che ci stanno conoscendo ci stanno conoscendo da poco e devo dire rispondono rispondono veramente bene. Siamo partiti facendo un discorso di responsabilità quest'anno, dicendo che avremmo ripreso gli allenamenti, una responsabilità importante da parte dei giocatori, perché la prima cosa è che abbiamo parlato di un aspetto comportamentale, quindi il venir meno di un comportamento responsabile o sano da parte di un solo atleta avrebbe inficiato con i nuovi protocolli tutto quello che è il sacrificio di tutta la squadra, perché oggi sappiamo che la positività prevede anche la revoca del certificato agonistico, quindi devi andare di nuovo a fare la visita medica, vanno a fare i tamponi regolarmente, insomma abbiamo messo in piedi una macchina che sicuramente nel corso del tempo avrà bisogno degli aggiustamenti, ma siamo in grado di dire che abbiamo rispettato totalmente quello che è previsto dalla FIP. L'unica cosa che ancora non capiamo è che quando si partirà e quando uscirà il calendario, lo dico bene Massimo? Una data ipotetica data dalla FIP Sicilia è dopo Pasqua, dopo Pasqua, abbiamo insomma un mese, un mese di allenamento per integrare tutti i giocatori, qualcuno che si è approcciato, qualche nuovo atleta, dico che sta provando, sta vedendo un po' come funziona, ci affidiamo a Carlo su questo, forse Pasquale, io sono stato un giorno, un giorno e mezzo assente dalla telefonata e quant'altro, Pasquale ha qualche altra novità che può dirci, Pasquale ci vuoi rivelare qualche novità? No, no, nessuna novità, ti posso dire tantissimi contatti, ci sentiamo anche la responsabilità di andare in un'altra regione e quindi fare un campionato dignitoso, per cui con Carlo Massimo abbiamo un sacco di contatti di tanti ragazzi che si sono liberati appunto perché i campionati quest'anno scarseggiano, tantissimi ragazzi talentuosi, però lì sarà compito nostro, compito di Carlo, nello specifico di fare degli innesti che valorizzino questo roster, il nostro roster, il nostro roster che forse, ecco, lo dico con un po' di presunzione, però ecco, sarà una sorta di rappresentativa, no, della Calabria, perché comunque, ecco, ci portiamo dietro questa responsabilità. Sì, sì, i calabresi del girone al cento per cento, anche se in Bacheca arrivano un sacco di candidature, allora abbiamo Filippo Latella e questo Forza Ragazzi, secondo me, vuole una canotta, poi abbiamo Giovanni Marità che avremo ospite successivamente, Panuccio, Comi, Meccalon, praticamente gli Evergreen, in bocca al lupo, amici miei, se vi serve un pivo di bagnara, ditelo, Gianni è pronto, lo conoscete, insomma, scherzi a parte, scherzi a parte. Ragazzi, in bocca al lupo, anche perché va sottolineato il vostro coraggio, che non è da poco, specialmente di questi tempi, e forza perché sarà un campionato, secondo me, tutto da vivere, in bocca al lupo veramente. Guarda, aggiungo solo l'ultima cosa, Gianni, posso? Proprio ieri ci era comunicato che la FIP Sicilia è riuscita a strappare un accordo alla regione Sicilia, e spero, diciamo, che faccia da piepista questo anche in altre regioni d'Italia, perché sarebbe da grande aiuto per il movimento. Appunto, con il Dipartimento di Salute della regione Sicilia, hanno sottoscritto un protocollo nella quale la regione si fa carico di tutti i tamponi pre-partita per gli atleti, per cui la federazione comunicherà agli atleti, e le varie ASP di competenza eseguiranno i tamponi 48 ore prima delle gare. Per cui, spero, diciamo, che questo sia il primo di una serie di accordi che dilacherà in tutta Italia in modo da dare la possibilità di alleggerire quelli che sono anche i costi in questo momento in capo agli atleti e dalle società, e, come dire, dare una mano in più a quello che è il mondo dello sport. Grazie mille, buona serata, e ci vediamo prestissimo. Grazie a te. Grazie a te, una buona serata a tutti. Ciao.